Buongiorno Siro, ecco, nonostante i dati epidemiologici siano in netto miglioramento, il Covid-19 è tutt'altro che sconfitto, anzi si parla sempre con maggiore insistenza di una possibile nuova ondata già a partire dal prossimo autunno. Le aziende, se non l'hanno già fatto, dovrebbero quindi attivarsi al più presto per elaborare un piano di crisi. Perché è così importante avere un piano di crisi per un'azienda oggi? Grazie Simona per avermi invitato a parlare di questo tema così attuale e importante per tutte le aziende. Anche io ho sentito parlare di una nuova ondata del Covid ad autunno, ho sentito parlare anche del fatto che potrebbe non essere pronto il vaccino per quella data. D'altra parte ci sono delle cure alternative che stanno studiando che potrebbero permettere di guarire i malati e questo, se dovesse verificarsi, ci permetterà di non avere una terrificante pandemia con degli effetti così devastanti, anche qualora il vaccino non sarà pronto. Comunque sia, sia di sia la soluzione e lo scenario che si creerà in autunno, sicuramente questa esperienza ha dimostrato che è necessario per le aziende avere un piano di gestione delle crisi. E questo a maggior ragione se si considera che ci sono anche tantissimi altri rischi che devono comunque essere considerati. rischi come gli attacchi informatici, le interruzioni delle catene di fornitura, gli incendi, gli eventi naturali e così via. E quindi è assolutamente importante per le aziende prepararsi per tempo a rispondere e a fronteggiare qualsiasi sia l'evento disastroso che può capitare nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Ecco, abbiamo capito che un piano di crisi è molto importante, no? Ma come lo si elabora questo piano di crisi? Da dove si comincia concretamente? Bene, si deve iniziare assolutamente dall'analisi dei rischi. L'azienda deve analizzare i rischi, valutare gli scenari che possono verificarsi e a quel punto può definire le sue strategie, le procedure che metterà in atto. Il piano deve considerare diversi aspetti. Uno, la gestione dell'emergenza. Poi la gestione della situazione straordinaria e quindi il comitato, chi prenderà le decisioni importanti in termini finanziari, in termini commerciali, logistici, amministrativi e così via. Poi c'è la parte della gestione della ripresa delle attività e infine la gestione del ritorno alla normalità. In questo momento molte aziende si stanno cimentando, anche senza nessun tipo di preparazione, navigando a vista al ritorno verso una nuova normalità. E poi c'è una seconda parte del piano, una parte molto importante che riguarda non quello che devo fare dopo che l'evento è accaduto, ma quello che devo fare prima, cioè devo dotarmi di tutti quegli strumenti, quelle misure, quelle tecnologie, quei materiali che mi permettano poi veramente di fronteggiare e di reagire alla crisi in un certo modo. Ecco, ma è vero che questa seconda parte del piano di crisi la si tende generalmente a dimenticare, quasi come se fosse da un certo punto di vista sottointesa? È assolutamente vero, diciamo che è una parte che viene un po' dimenticata e non viene presa veramente in modo preciso e in considerazione. Mentre invece si è visto anche in questo caso della pandemia che per esempio le aziende hanno mandato i dipendenti a lavorare da casa, ma senza nessuna preparazione, per cui è successo che alcuni dipendenti hanno trovato difficoltà a lavorare efficacemente, almeno nei primi giorni, non avevano le tecnologie e gli strumenti che garantissero la possibilità di operare bene. Dopodiché, è successo anche, è successo che le aziende non hanno preparato delle misure di sicurezza contro gli attacchi informatici in questa nuova modalità di lavoro e sicuramente gli hacker ne hanno approfittato di questa debolezza. E poi per non parlare della privacy, non c'è stata nessun tipo di preparazione nella gestione separata di quello che è la sfera aziendale e la sfera personale. Ecco, questa seconda parte è sicuramente una parte importante da curare quando si fa un piano di gestione delle crisi. Ecco, elaborare un piano di crisi o di emergenza, un piano di continuità operativa, abbiamo capito che è un'operazione molto delicata e complessa. Forse a questo punto sarebbe meglio farsi supportare da degli esperti, giusto per non trascurare nessun aspetto. Sì, assolutamente il piano è un piano che coinvolge l'interazienda, coinvolge la direzione, i manager, i responsabili, un po' tutti in azienda. E quindi il suggerimento è quello di costituire un team di progetto interfunzionale, di fare riferimento a delle metodologie, di pianificare i passi e assegnare bene le responsabilità. Ora, questo nelle aziende può anche essere fatto, ma di solito mancano le competenze e questo non è garanzia di buon risultato. Mentre invece l'utilizzo, diciamo, di buoni consulenti, di bravi consulenti può permettere uno di gestire e coordinare questa complessità del progetto, garantisce il risultato finale e in più impegna le persone per quello strettamente necessario. Alla fine non si ha periodo di tempo e semmai c'è anche un guadagno di tempo e di costi. Ecco, abbiamo capito che investire in un piano di continuità operativa è di estrema importanza per qualsiasi tipologia di azienda, grande, media e piccola. Forse in un momento come questo può fare un po' paura l'aspetto finanziario. È possibile commisurare l'investimento alla disponibilità economica della singola azienda? Sicuramente. Il piano deve essere costruito in funzione della dimensione dell'azienda, della sua struttura, delle sue caratteristiche, della sua complessità. L'azienda deve concentrarsi su quello che è essenziale per la sua sopravvivenza e concentrarsi su quello che è indispensabile per avere una giusta gestione della crisi. A volte, quando veniamo chiamati da delle piccole aziende che non hanno grandi capacità di investimento, noi suggeriamo di concentrarsi sulle massime priorità e realizzare un piano per questo tipo di esigenze. Poi, se viene richiesto, facciamo anche una stima di quello che serve per completare il piano, per renderlo esaustivo, per rispondere alle priorità anche ai minori e a tutte le esigenze. A quel punto, l'azienda può pianificare eventualmente, successivamente, degli investimenti ulteriori per completare il piano. Ecco, il piano deve essere per ogni azienda costruito su misura, con molta competenza, concretezza e pragmatismo.